Eccoli! Ben arrivati! Tanti auguri! Florevo e Elena si sono messi insieme all'università. Federico e Claudia si sono fidanzati dopo, prima sono stati amici per tanti anni. Diciamo? A Enrico, l'amico sincero che ognuno dovrebbe avere la fortuna di incontrare nella vita. Ciao, Florevo! Siamo in mano aperta, amore! Non ho sganciato le ancore. Volevo fare il caffè, ma non c'è più niente. Non trovo il telefono! Ma che succede? Siamo stati rapinati, hanno manomesso i comandi e portato via i viveri. Oh, sì! Ci sono tante persone cattive in giro. Moriamo qui. Qui non muore nessuno, siamo calmi. Aiutatemi. Ma storia che rimane tra me, te? Te l'avevo detto che non ci dovevamo fidare. Una morte sola e cento vite in cambio. Io non c'entro niente, ragazzi. Io non c'entro niente. Non ti volevo fare di normale, te lo giuro. E le tue cazzate, non le voglio più sentire. Ci sta prendendo per il culo, Flavio! È una trappola, ci sta prendendo per il culo, Flavio! Ci tormenterà tutta la vita. E che cazzo vuoi ancora?